della serie chi non muore si rivede e nva x un'azione che stavo seguendo da settimane con nel mio gruppo facebook mi dà un'occasione per andare a scioltarla su 45 è un'azienda farmaceutica c'è stata tutta una serie di notizie interessanti quindi voglio scioltarla su 45 stop su 46 dollari target su 44 dollari un target un rapporto di screndimento di 1 a 1 un'operazione veloce che poteva in realtà iniziare a fare da quel massimo sarebbe stata eccellente con uno stop molto piccolo di più o meno 40 centesimi un target di un dollaro e 60 quindi molto interessante perché mi avrebbe dato esattamente la stessa cosa ma cosa è successo in sostanza esce una notizia che trump ha deciso con la le cinque candidate per il vaccino e sono moderna altre grosse compagnie ma non novanax quindi questa qui è stata sostanzialmente una notizia devastante per novanax che ha aveva impostato tutte le sue pr tutte le sue headline tutte le informazioni tutte le notizie su appunto la costruzione di un vaccino per il coronavirus nel momento in cui trump è andato a la commissione di trump è andato a designare altre compagnie tra cui mrna moderna che è una diretta competitor sono due piccole compagnie novanax e moderna rispetto magari a johnson and johnson ok per modè per novanax ma anche per altre azioni come ti farò vedere è stata assolutamente ha avuto assolutamente un impatto negativo e io sono andato a scioltarlo sui 45 dollari per appunto andare a prendere il profitto poi 44 e 43 40 cercando appunto di prendere il massimo del profitto come vedi anche su ino stessa compagnia stesso tipo di compagnia di novanax l'impatto dell'esclusione è stata è stato assolutamente negativo mentre su moderna il fatto che sia stata inserita in questa in questi candidati è stato assolutamente positivo questo tipo di situazioni con questo tipo di notizie così facilmente intellegibili non capitano spesso e qui sono capitate semplicemente perché io ero assolutamente attento a quello che stava succedendo nel piccolo mondo di queste compagnie farmaceutiche quindi seguivo novanax da settimane è moderna da settimane ci ho fatto già operazioni con i ragazzi nel gruppo e quindi mi sono fatto semplicemente trovare pronto e quindi Grazie a tutti.